bene nella lezione odierna andiamo a vedere una veloce rivisitazione di tutte le cose che ci servono per affrontare lo studio trigonometrico in particolare delle funzioni trigonometriche quindi questa lezione può essere utile ad esempio a chi non si ricorda qualcosa nel mentre sta facendo la descrizione ad esempio della funzione seno della funzione tangente può in ogni momento andare a rivedere questa lezione che parte dalle basi e cerca di ripercorrere un pochino tutte le funzioni è una fast review una veloce rivisitazione di tutte le cose che abbiamo visto iniziamo dunque dagli angoli iniziamo dagli angoli e quindi ci ricordiamo quanto valgono le funzioni seno e coseno al variare degli angoli scritti in radianti in questo caso allora andiamo a vedere ad esempio a 0 il coseno fa 1 il seno fa 0 radice di 3 su 2 un mezzo a pi greco sesti a pi greco quarti valgono uguale così facciamo notare ad esempio faccio notare ad esempio come se andiamo a guardare le ordinate dei punti da 0 a pi greco mezzi vediamo come le ordinate sono crescenti 0 un mezzo radice di 3 su 2 radice di 3 su 2 un mezzo il che significa quando una cosa che abbiamo visto quando abbiamo studiato la funzione seno significa che la funzione seno da 0 a pi greco mezzi è una funzione crescente mentre se andiamo a studiare le le ascisse dei punti da del coseno dunque da 0 a pi greco mezzi vediamo 1 radice di 3 su 2 radice di 2 su 2 un mezzo 0 vuol dire che il coseno da 0 a pi greco mezzi è una funzione decrescente poi lo rivedremo sui grafici ecco facciamoci un giochino sugli angoli questo poi per chi ha il codice può trovare una grossa utilità andiamo ad esempio random a scegliere qui degli angoli e abbiamo qui alcuni punti e noi dobbiamo andarli a mettere ad esempio a dobbiamo andarlo a mettere a pi greco e quindi vediamo che quando andiamo a pi greco dice che è giusto a b è semplice semplice siamo stati fortunati a 0 c deve essere 7 sesti pi greco o 7 sesti pi greco andiamo un po' a spostare e 7 sesti pi greco ci ricordiamo essere pi greco più pi greco sesti quindi dovremmo tornare un pochino indietro eccolo qui c poi d è 3 mezzi pi greco anche questo siamo stati fortunati perché sono angoli abbastanza noti eccolo qui 3 quarti pi greco 3 quarti pi greco è pi greco meno pi greco quarti ed è e pi greco meno pi greco quarti quindi dovremmo stare più o meno una cosa una cosa qua ma vediamo che c'è un bug un falso non ce l'ho becca e vabbè 3 quarti pi greco lo lasciamo lì 5 terzi pi greco f a a si ok f è 5 terzi pi greco 5 terzi pi greco quindi è 2 pi greco meno pi greco terzi eccolo qui su e poi devo rivedere il codice non so per quale motivo non funziona g abbiamo pi greco sesti vabbè facile facile spostiamo un attimo h g è pi greco sesti e andiamo a a togliere i controlli qui 7 quarti pi greco invece 7 quarti pi greco è 2 pi greco meno pi greco quarti quindi 2 pi greco meno pi greco quarti dovremmo stare eccolo qui ecco adesso poi rivedrò il codice del perché non funziona lì la e e tutto quanto sarà chiaramente tutto sistemato ok quindi ecco possiamo anche andare a mettere ad esempio le coordinate no le coordinate ecco vediamo di e e si sono giuste meno un mezzo meno 1 su radice di 2 meno di 2 su 2 e radice 2 su 2 ma non ci dice che è giusto ok però insomma questo giochino insomma può servire per avere delle delle otti di un ottimo modo per imparare gli angoli o andiamo a vedere uno slide show qui su come che cosa facciamo ecco disegniamo ad esempio il seno andando ad aumentare l'angolo vediamo come andiamo a descrivere il seno come dicevamo precedentemente il seno andiamo a mettere i pi greco i tic in pi greco andiamo a vedere come da 0 a pi greco mezzi la funzione seno è una funzione crescente poi è una funzione decrescente e così via insomma questo è un modo molto veloce per accorgerci per disegnare la funzione seno poi possiamo disegnare ad esempio la funzione coseno accorgerci sempre da 0 come da 0 a pi greco mezzi la funzione coseno è una funzione decrescente decresce fino a pi greco e poi ricomincia a crescere e così via stessa cosa se lo giriamo con angoli negativi possiamo disegnare anche la tangente partendo da 0 ad esempio andiamo a vedere come da 0 la funzione tangente è crescente fino a pi greco mezzi a pi greco mezzi sappiamo che c'è un asintoto verticale segnato da quella retta verticale in verde e poi vediamo come ecco qui non si vede ricomincia poi da sotto la mia funzione comincia da sotto e avrà un altro asintoto e glielo la a tre mezzi pi greco e così via e poi lo possiamo vedere anche in maniera negativa possiamo anche mostrare tutti i grafici ad esempio della funzione tangente e li possiamo anche vedere tutti insieme quindi andandoli a vedere tutti insieme se noi prendiamo l'angolo a 0 possiamo disegnare le nostre senza mostrare il grafico possiamo disegnare le nostre funzioni contemporaneamente ecco questo è un buon modo per vedere come sono queste tre funzioni ancora una volta sui grafici invece che di vederli insieme qui lo possiamo vedere con gli angoli in gradi andiamo a prendere l'angolo a 0 andiamo a vedere come come cresce l'angolo fino a pi greco mezzi il seno inizia a crescere il coseno inizia a decrescere lo vedete e vediamo come e vediamo la tangente come è la funzione tangente come va in verticale come si avvicina verso pi greco mezzi o 90 gradi in questo caso e poi sempre possiamo andare a fare questo slide per vedere come queste funzioni sono con tutte e tre molto legate le una alle altre o qui ancora ancora una volta qui possiamo andarle a vedere addirittura tutte e tre disegnate con i segmenti però i segmenti andiamo a vedere come come l'angolo cresce come l'angolo cresce come l'angolo cresce vediamo come il seno cresce e il coseno viene come se venisse attratto verso lo zero quindi viene attratto verso l'origine poi vediamo come la secante la cosecante altre due funzioni di cui abbiamo già segnato il video vediamo che come il coseno ad esempio decresce la cosecante inizia a crescere e viceversa sulla cosecante che è legata al seno poi abbiamo anche la tangente la cotangente che però più o meno abbiamo visto anche prima vediamo come la tangente nel momento in cui arriva verso pi greco mezzi diventa perpendicolare e così via insomma qui lo possiamo vedere le possiamo vedere anche negative questo è interessante perché introduce le altre due funzioni di cui abbiamo parlato secante e cosecante o l'ultima l'ultima anch'essa anch'essa veramente molto interessante anch'essa molto interessante ci fa andare a studiare tutte le funzioni che fino adesso abbiamo visto e ce le fa studiare anche con la secante e la cosecante dunque di nuovo andiamo a vedere che come l'angolo cresce il seno cresce il coseno decresce la tangente inizia a crescere la cotangente inizia a decrescere la secante inizia a crescere la cosecante inizia a decrescere eccole lì le nostre funzioni che contemporaneamente vanno a disegnarsi nel momento in cui io vado ad aumentare ad esempio l'angolo andiamo a fare lo show dei valori vediamo come il seno si sta avvicinando a 1 il coseno si sta avvicinando a 0 dunque la tangente si va a va verso infinito mentre la cotangente va verso 0 perché ha il coseno al numeratore la secante invece va verso infinito e la cosecante invece va verso verso l'uno che è il suo minimo ecco quindi ancora vediamo come si vanno a disegnare tutte queste funzioni tutte queste funzioni che possiamo anche animare e vedercele contemporaneamente tutte mentre si stanno disegnando disegnando le une accanto alle altre ecco questa lezione fondamentalmente sarebbe finita poi mi è venuto in mente invece di fare un piccolo appunto su excel e cioè tentare di andare a disegnare la funzione seno e la funzione coseno con excel allora facciamo in questo modo innanzitutto ci andiamo a prendere prima gli angoli in gradi e poi in radianti poi ci mettiamo la funzione coseno poi ci disegniamo la funzione seno adesso lo facciamo live così tutti quanti possiamo andarcelo a disegnare piano piano mentre stiamo parlando allora qui possiamo fare 0 30 60 a passi di 30 vediamo se excel è così intelligente da capirci sì è più intelligente di noi e ci sta capendo aumentiamo anche un pochino magari la grandezza la grandezza dei caratteri così così ci vediamo meglio ora possiamo anche andare a scrivere tutte queste funzioni tutte questi gradi anche in tutti questi angoli in radianti la funzione radianti prende l'angolo in gradi e la porta in radianti poi facciamo doppio clic e li troviamo qui ora questo potrebbe non dirci molto perché vedete che ci va a dire l'angolo 30 gradi e 0.52 radianti e così via ma se andiamo ad esempio verso 180 ci accorgiamo proprio che 180 è uguale a 3,14 e così via se volessimo fare un piccolo confronto ad esempio potremmo andare a fare una cosa del genere cioè fagli scrivere a lui il pi greco e siccome sappiamo che 30 gradi è pi greco sesti vediamo che i due numeri corrispondono perfettamente cioè questo è quello che noi chiamavamo pi greco sesti cioè pi greco diviso 6 va beh questo lo possiamo fare per tutti quanti ad esempio questo qui è uguale a pi greco diviso 3 e ops scusate pi greco deve stare così diviso 3 e vediamo che corrisponde completamente se qui andiamo a mettere proprio la funzione pi greco vediamo come ci corrisponde perfettamente all'angolo di 180 va beh questo adesso lo possiamo eliminare ora andiamo a vedere quanto valgono le funzioni coseno e seno e allora excel ha la funzione coseno la funzione coseno però li prende prende i valori radianti poi quindi il coseno a 0 sappiamo che vale 1 poi sto qui o faccio il trascinamento o faccio il doppio clic ecco vabbè adesso questo sì è un problema così lo risolviamo così nessuno può dire nulla vabbè lo scrivevo in formato scientifico chiaramente in formato scientifico non avevamo mai lo 0 ma avevamo un 10 alla meno 17 ok d'accordo per i più evoluti insomma quello è lo 0 macchina mentre il seno possiamo aggiusto stiamo in italia senna prendiamocelo sempre in radianti il seno a 0 fa 0 e così via anche qui formato celle e mettiamo numero così siamo tutti contenti eccolo qui quindi vediamo le corrispondenze che avevamo già visto alcuni valori già li possiamo immaginare questo sarebbe un mezzo questa radice di 3 su 2 è il valore numerico di radice di 3 su 2 cosa che invece noi eravamo abituati a vedere in maniera esplicita con la radice e la frazione sappiamo anche dunque qual è il valore vero andiamo a vedere che cosa succede sulla tangente la tangente sappiamo che è seno diviso coseno allora vediamo che fino a qui tutto va bene poi ci avviciniamo qui ancora tutto va bene ci avviciniamo poi ok non abbiamo messo pi greco quarti quando ci avviciniamo qui vedete che ci dà questo numero spaventoso che se noi ad esempio anche adesso andiamo a mettere un formato celle numero ci dà ecco questo numero spaventoso che sarebbe per lui sarebbe stiamo dividendo insomma per 0 quindi possiamo anche andare a disegnarci a vedere i valori della tangente ora però se vogliamo proprio anche andare non disegnare con matematica perché non siamo così avezzi a questo strumento un pochino più complesso possiamo andare a disegnare la funzione seno o la funzione coseno direttamente con con excel anche magari per punti facciamo la selezione dei gradi ad esempio del coseno facciamo inserisci grafico prendiamo uno scatterplot che è questo eccolo lì e andiamo a vedere come andiamo a vedere questa cosa bellissima e cioè come andiamo magari a sceglierci qualcosa di più carino un layout veloce su bah che dirti una cosa così sarebbe anche carino andare a vedere questo che abbiamo fatto in un'altra lezione vabbè vedete come la retta interpolante qui è una retta con un r quadro 0.0 15 quindi bassissimo perché è di lineare qui non c'è veramente nulla torniamo indietro però chi vuole può andarsi a vedere la lezione fatta proprio sull'interpolazione fatta con excel o fatta con r o fatta con con matematica della differenza insomma vedete come in quel caso in quel caso avevamo dei 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 punti disposti linearmente quindi r quadro veniva molto bene qui invece r quadro viene malissimo perché il coseno di lineare dicevamo non ha nulla essendo una funzione che non è assolutamente lineare comunque vediamo come lo shape della del coseno viene di nuovo fuori da 0 a 300 360 vediamo come viene fuori perfettamente ecco anche questa lezione ecco poi uno si può si può divertire a fare il seno la tangente vedere insomma come vengono anche le altre funzioni anche per questa lezione io direi che abbiamo finito questa lezione vi serve da rivedere ogni tanto per avere un quadro generale delle cose che abbiamo fatto in tutti i disegni nell'intento insomma di poter capire bene come sono le funzioni trigonometriche di seno coseno tangente cotangente secante cosecante e dei loro disegni spero vi sia piaciuta